benvenuti in questa guida top 7 glucometri di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo boiler gl semplice da usare display retroilluminato strisce reattive larghe semplice sistema di marcatura dei valori misurati per un controllo vediamo la nostra valutazione una buona qualità generale 3 stelle nell'offerta per funzionalità diamo 5 stelle nella media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 73 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo glucometro misuratore kit di test della glicemia questo kit include sinocare safe acqua parecchi misuratori glucosio più strisce x50 più un dispositivo di indolore ecco cosa pensiamo un'eccezionale qualità generale uno sconto davvero importante un'estrema quantità di funzioni complessivamente un ottimo rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 78 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo misuratore di s questo kit safe acquenge il pus soddisfare le esigenze del test quotidiano della glicemia il kit fornisce vediamo la nostra valutazione 4 stelle nella qualità generale buona la promozione con caratteristiche ottime ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare glicemia misurare kit glucometro avanzato il kit per il test del diabete sinocare dotato di tecnologie avanzate offre risultati più accurati e affidabili e vediamo il nostro parere qualità generale davvero eccezionale offerta molto interessante per le funzionalità raggiunge tre stelle con un rapporto qualità prezzo molto alto il nostro punteggio generale è di 86 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo misuratore glicemia sinocare safia q voice modello 25 questo kit include monitor della glicemia sinocare safia q voice strisce x 25 dispositivo vediamo la nostra opinione nella qualità generale assegniamo 5 stelle ottimo momento per acquistare con una funzionalità eccelsa nel complesso un buon rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 92 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo diabetes test completo test del sangue del sangue sangue il nostro particolare kit di test del diabete e q ex active si impegna nel monitoraggio ecco la nostra valutazione quattro stelle nella qualità generale nell'offerta assegniamo tre stelle con una straordinaria funzionalità sommariamente discreto il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 87 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica peak solution kit completo e tutto in uno kit completo per la misurazione glicemica con glucometro dispositivo pungidito lancette per il prelievo e ecco il nostro parere un'eccellente qualità generale uno sconto davvero importante con una straordinaria funzionalità assegniamo quattro stelle per il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 90 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grazie a tutti grazie a tutti